L'ufficio provinciale e azienda Foreste De Magnali di Siracusa impiegherà i lavoratori forestali in collaborazione con il servizio parco archeologico di Siracusa per i lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde all'interno del parco archeologico della Neapolis. Un progetto esecutivo sull'importante sito archeologico che avverrà grazie all'impiego di 250 mila euro dei fondi europei. L'iniziativa è stata presentata sabato mattina dagli assessori regionali ai beni culturali e all'agricoltura Maria Rita Sgarlata e Dario Cartabellotta presso la chiesa di San Nicolò all'ingresso del parco della Neapolis. Si tratta di un progetto pilota che in qualche modo io desidererei riproporre negli altri siti, penso anche a Eloro, penso anche a Caucana, penso anche a tutta Sicilia. So che fra l'altro anche su Villa Napoli a Palermo si è intervenuti in questo modo. Si tratta dunque di un progetto che adesso parte con un fondo europeo di 250 mila euro che vengono utilizzati per il parco della Neapolis. Quindi investe Siracusa il parco della Neapolis. Sì, investe per adesso Siracusa, è un intervento di manutenzione straordinaria che in qualche modo però dovrà diventare anche un intervento di manutenzione ordinaria, no? Cioè quella che ci garantirà appunto la fruibilità dei nostri siti archeologici. Fondi permettendo quindi una possibile estensione in Sicilia di questo progetto? Sì, assolutamente, assolutamente. Bisognerà impiegare i forestali per questo, cioè rifunzionalizzare anche alcune di quelle che erano le mansioni, non solo dei forestali ma anche di altre categorie che lavorano all'interno della regione siciliana. Noi ci abbiamo lavorato molto con il collega Frittitta dell'azienda delle foreste per realizzare questo grosso progetto che è lo sviluppo di quanto avevamo già fatto negli anni passati nel 2011 e nel 2012 con degli interventi più limitati. Questa volta noi riusciremo ad avere un recupero di aree molto importanti e anche un restyling dei percorsi e delle aree della Neapolis che sono chiuse da tanto tempo purtroppo. È un problema oneroso quello della pulizia, quindi una soluzione che sicuramente potrebbe essere adottata anche agli altri siti? Sì, certamente, noi l'abbiamo già adottata, ribadisco, anche perché ci vogliono dei periodi in cui fare delle cose mirate, quindi non è un problema che si può risolvere in qualunque momento dell'anno. Siamo stati in questo forse degli antessignani, infatti non a caso il primo progetto importante sta partendo a Siracusa e soprattutto questo consentirà anche ai lavoratori della forestale di valorizzare il loro lavoro. Perché è importante che siano recuperati i siti, è importante che i siracusani si riappropriino di una città piacevole anche a viversi quotidianamente, è importante che il turista aumenti gradendo ancora più l'area, ma è importante anche che i lavoratori lavorino con piacere. Grazie per la visione!